Traduzioni, cos'è la postilla? La postilla è il timbro di legalizzazione che viene emesso da uno dei dipartimenti del Ministero degli Esteri di un paese. Serve per rendere legale un documento per l'utilizzo all'estero ed è accettato da tutti quei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'AIA. Il formato della postilla può variare da paese a paese, ad esempio per l'Italia è un vero e proprio timbro, mentre per il Regno Unito è più che altro un foglietto che viene affisso sul retro del documento. Tuttavia le informazioni presenti sulla postilla sono sempre le stesse, incluse il numero di riferimento della postilla stessa e la firma dell'ufficiale. Per domande o supporto professionale scrivere a helpchiocciolacomplitaly.uk Da oggi c'è una soluzione facile e completa. In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife, shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora. Disponibile per smartphone, tablet e pc, mille soluzioni o un'unica piattaforma. Complitaly!